Siamo in località Le Ronce, sotto il colle del Nevegale. Guardate che paesaggio, che panorama quasi lunare. E questo è quanto è rimasto dopo la tempesta vaia dello scorso ottobre. Vedete tutte le ceppai e qui si sta lavorando per rimuovere la stragrande maggioranza dei tronchi d'albero abbattuti dal forte vento, poco distante ci sono le macchine operatrici e la legna che comincia ad essere accumulata. C'è molto, c'è moltissimo da fare. Il lavoro sta procedendo bene. Certo è che arriveremo praticamente all'estate prossima con i lavori. Di fatto non sarà difficile riuscire a finire prima, ma speriamo ovviamente anche nel meteo. Un anno e mezzo, questa è la previsione per la rimozione dei tronchi schiantati da vaia nei boschi del Nevegale. A Belluno ci si dice fortunati, poiché l'intervento sarà celere per la geomorfologia del territorio che è accessibile rispetto alle zone della parte alta della provincia. Il comune di Belluno dovrebbe poter introitare fino a circa 500 mila euro, una cifra molto importante che ci consentirà di effettuare alcuni investimenti proprio sul colle, perché tutti questi soldi verranno rispesi ovviamente sempre sul Nevegale. La cifra che incasserà Palazzo Rosso è fortemente svalutata rispetto al valore reale che aveva il legname prima dell'ottobre 2018 e questo perché gli schianti di vaia hanno determinato una modifica del mercato nel suo complesso. Quanti alberi sono stati abbattuti dalla tempesta? Difficile ancora oggi stabilirlo. Il quantitativo di legname è ipotizzabile, quello che verrà rimosso, quello che è stato già rimosso? Beh, è spaventoso, non ho un dato adesso e lo voglio vedere anch'io quando saremo alla fine. Dico soltanto che il primissimo giorno in cui sono andati a dare un'occhiata, quindi la ditta ha iniziato il lavoro, ma proprio stava ancora montando il cantiere, sono scesi con dieci tir pieni di tronchi. Grazie.